La città fu presa, con l'inganno, nel decimo anno. L'Artemide Arciere si schierò con i Troiani, perché gli Achei non tornarono in patria, ma restarono per distruggere la città. E se non sarà la vostra dignità a frenarvi, sarò io, Ulisse, io! Chi sa solo odiare non potrà mai guarire. Il Dio Il Dio Il Dio Il Dio Il Dio